Ciao a tutti ragazzi sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale mi scuso per la qualità della voce ma c'ho un mar di gole, un raffreddore disumano però ovviamente ho preso un paio di giorni per riprendermi un attimino perché ieri avevo particolarmente forte il raffreddore però ora basta, ci provo, spero che mi si senta abbastanza bene già che non tiro più tanto sul cornase, è già qualcosa comunque vi voglio presentare Star Wars Orle Esterno che è uscita da qualche giorno in Italia ovviamente gioco della Fantasy Flight Games infatti tante regolucce e cose che ci sono all'interno sono tipiche dei giochi della Fantasy Flight e localizzato in italiano e venduto in Italia da Asmod Italia che ancora una volta io ringrazio di cuore ragazzi grazie, tanto ve lo dico sempre, ve lo ripeto continuamente ma ve lo dirò ogni volta, ogni recensione è un onore collaborare con voi e abbiamo festeggiato un anno eh di collaborazione fra il mio canale e voi ora a metà settembre quindi grazie di cuore e il primo gioco ce l'avete mandato l'altro anno più o meno di questo periodo qui quindi grazie è un anno che collaboro con voi e spero che ce ne siano altri riesci è veramente un onore grazie ragazzi parliamo ovviamente di guerre stellari parliamo di quella parte della mappa per tutti i fanatici dell'ambientazione come me che prende l'outerrim o quindi l'orlo esterno Takodana tra i pianeti più famosi inseriti nell'expanded universe dai nuovi film Naboo Tatooine Kessel sì la rotta di Kessel che fece Ansole qui insomma quella parte di fascia governata un po' dalla criminalità perché sapete in questa ambientazione qui soprattutto nell'orlo esterno di guerre stellari dove Ansole è diventato famoso Lando Carrissian ma anche dove si muovono le più grandi flotte di contrabbandieri e cacciatori di taglie tipo Boba Fett Grido e quant'altro infatti in questa ambientazione ci sono gli Hatt come fazione c'è l'impero c'è anche la ribellione ovviamente e tutto quanto però una cosa che mi piace da morire di questo gioco è che finalmente in un gioco con ambientazione di guerre stellari non si parla proprio per niente non è che non se ne parla però si accennano a malapena nemmeno se ne accenna nulla non esistono Jedi e Sith perché questo è un gioco dove voi sarete cacciatori di taglie contrabbandieri mercanti spaziali insomma un po' tutta tra molte virgolette la feccia perché poi Lando Carrissian e Anzolo avevano un po' d'onore cioè non erano completamente feccia come potrebbe essere un grido o un cacciatore di taglie al servizio di Boba Fett e quindi in Star Wars orlo esterno sarete contrabbandieri criminale tra virgolette e dovete diventare il più famoso appunto dell'outerrim dell'orlo esterno unboxing l'ambientazione va fra episodio 3 ed episodio 4 quindi con la costruzione della prima morte nera perché infatti nel gioco fra i tanti personaggi speciali che potete utilizzare c'è anche G-Nerso che avete visto in Star Wars Rogue One apriamo regolamento di gioco anche qui sono tipo una decina di pagine però ragazzi i giochi della Fantasy Flight sono sempre molto semplici come regolamenti e poi tra l'altro spiegati veramente bene pieni zeppi di immagini e di esempi quindi sono di facile lettura e poi compendio delle regole messe in ordine alfabetico quindi se una regola non vi torna o qualcosa del genere prima di stare a girare tutto il manuale andate a leggere direttamente qui molto 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 utile mappa di gioco token vari ovviamente pezzi della mappa da montare poi abbiamo girando qua giù dietro i token delle fazioni punti ferita e i personaggi speciali come vedete i contatti che sono in basso standi su cui mettere le miniature che qui sono fatte in cartoncino non sono fisiche in 3D più i dadi di gioco carte di gioco che comprendono carte evento banche dati carte dei singoli pianeti e più tra l'altro tutto quello che potete acquistare dal mercato che ora poi vi faccio vedere queste a sinistra quindi alla mia destra sono le planche giocatori che potete utilizzare e queste di qua invece sono le navi che potrete comprare quindi a destra questa è la mappa di gioco e come vedete nel setup iniziale della mappa di gioco ci sono le pattuglie che entano in gioco quindi in questo caso qui sono pattuglie del consorzio dei vari consorsi insomma criminali dell'ambientazione più l'infondere i belli dovete metterne come le vedete sono 4 pattuglie di cui le prime 3 livello 2 3 4 vanno messe girate a faccia in giù e qui invece le prime 2 a livello 1 vanno messe a faccia in su poi dovete mettere il vostro personaggio speciale che avete scelto io ovviamente il mio personaggio preferito dell'ambientazione di guerre stellari è Boba Fett ho preso lui che parte dal pianeta di Cantonica ma poi vi farò vedere perché come funziona quando si passa il personaggio poi gli incontri gli incontri li dovete sempre mettere a faccia in giù mescolati dove c'è il loro colore quindi un incontro giallo sul suo segnalino giallo un incontro verde sul suo segnalino verde le dovete disporre tutti dopo aver vedete la mappa è componibile dopo averle disporso sulla mappa poi qua giù ci sono i mazzi degli incontri e i mazzi degli incontri sono sempre legati alla regione del gioco perché la regione dell'orlo esterno le regioni in tutto sono sei che sono una due tre quattro cinque e sei ogni segmento dell'orlo esterno ha due pianeti e quindi le dovete sempre mettere il mazzo del suo pianeta come in questo caso qui che ne so Mon Calamari e Lotal quindi mescolate i mazzi e li disponete nel loro quadrante quindi questo qui è il setup iniziale navi come vi ho fatto vedere delle pattuglie personaggi qui ad esempio c'è Ginerzo nel loro punto di partenza e incontri e avete fatto la mappa di partenza ora passiamo su perdonate ragazzi il giallo non era consorzio ma sindacati vabbè piccola piccola correzione come vedete plancia del personaggio dovete sempre prendere una di queste e prendere un segnapunti questi qui sono quelli lì piccolini bianchi e metterla a livello 0 perché in questo gioco a parte la prima partita che vince che arriva a reputazione 8 il primo cacciatore di taglio comunque contrabandiere che arriverà a reputazione 10 avrà vinto la partita poi nello slot qua giù in basso il personaggio speciale che avete scelto casualmente tirando dei dadi o scegliendolo comunque vedete io ho preso Boba Fett ovviamente per ragione di cronaca qua giù accanto perché mi piace da morire è il mio personaggio preferito viva Mandaloriani qua giù ci sono tutte quante le carte e banche dati che sono numerate vedete da 92 andando in fondo fino a 1 le dovete sempre tenere faccia in giù perché questo è un gioco come ragazzi Fantasy Flight insegna le case della follia che ha una fortissima componente di narrazione e poi vi dirò alla fine nella recensione finale che è una cosa che ovviamente mi piace veramente molto e all'inizio del gioco quando prendete la carta del vostro personaggio oltre a avere una missione da comprare dell'abilità in fondo che non si leggerà però piccolissimo c'è scritto qual è la sua carta banca date di partenza che io ho preso era la numero 90 e l'ho girata qua giù in fondo quindi quella è la missione principale del vostro personaggio che nel setup iniziale vi dirà anche da dove farlo partire questa carta ad esempio dice è una taglia quindi la mettete nello slot taglia e lavori della scheda del personaggio e Boba Fett partirà dal pianeta di Cantonica come avete visto l'avevo è morto l'avevo preso e ho messo la pedina nel pianeta di Cantonica come prima ho fatto adesso la mappa poi la reputazione che avete con le quattro fazioni di pattuglie del gioco che come vi ho fatto vedere prima c'è la ribellione l'impero il sindacato e immancabili gli hat e questa è la cosa bellina del gioco perché dovete stare molto attenti alla vostra reputazione un po' come su Star Wars di Old Republic se sarete positivi ne avrete dei vantaggi dei benefici se avrete una reputazione negativa verrete attaccati quindi che ne so se la vostra reputazione con gli hat dovesse salire voi questo lo alzerete e andrete al più se lo porterete centrale sarà neutrale se l'abbasserete e perderete i punti vorrà dire che voi siete nemici a quella fazione qui accanto vedete una nave di partenza ok nave di partenza che ragazzi fanno schifio lo dico sinceramente però le potete comprare successivamente arrivando sui pianeti le navi hanno come il vostro personaggio hanno dei valori il personaggio vostro ha valore attacco e valore dei punti ferita che può subire armatura tipo la nave ha valore movimento valore attacco e scafo in più vedete tutti quanti gli slot dove mettere le vostre carte nelle varie sezioni potrete andare e mettere le carte tipo questo è il vano carico questo è il vano per le modifiche della nave questo è il vano dell'equipaggio dove potete mettere tutti i personaggi che sbloccherete nel vostro equipaggio e poi ovviamente le caratteristiche d'attacco come sulla scheda di qua ci saranno le carte attrezzatura un'altra carta attrezzatura una carta lavoro o taglia e anche di qua lavoro o taglia vi ricordo che nella nave ci possono andare anche più carte nel personaggio le taglie lavori o taglie possono essere due al massimo le attrezzature possono essere due al massimo e questa è la scheda del personaggio queste invece sono i sei mazzi del mercato che potrete andare a comprare su tutti i pianeti quindi questo mercato è a disposizione di tutti i giocatori e l'avrete sempre sempre in tutti i pianeti quindi dove andate andate magari andate su castle magari andate su nabù questi saranno disponibili a tutti e dovete dividere in vari mazzi la prima carta in cima va sempre girata a faccia in su a differenza degli altri ed è mazzo dell'equipaggio mazzo dei lavori mazzo dei carichi quindi sempre legate a missioni cose da trasportare mazzo dei carichi speciali che questi vi permetteranno anche di avere più punti di solito non sempre comunque più punti fama per vincere la partita mazzo delle modifiche quindi modifiche sia al vostro personaggio che alla vostra nave quindi qui tutti quanti i potenziamenti del caso e mazzo delle navi perché anche le navi si potranno acquistare in questo caso vedete lo slave one l'ho messo non a caso perché c'è in campo Boba Fett che potrà essere acquistato con una cifra di 20.000 crediti poi ogni personaggio inizia con tot crediti crediti che poi potete guadagnare anche nel corso dell'avventura vedete qui nel taglio da 1000 taglio da 5000 e taglio da 10.000 le carte le potrete acquistare al mercato figata del gioco mi piace da morire una bella aggiunta pagandole il loro costo ok quindi quando andrete a un mercato potete dire ok questa carta qui in modifica costa 3000 ce l'ho 3000 si li spendo oppure potreste anche semplicemente dire non voglio ne spendo 1000 gli altri 2000 vado a barattare oppure anche semplicemente non ho sordi voglio soltanto barattare questo cosa vuol dire che se potete barattare sempre senza alcuna regola tutte quante le vostre carte che avrete o nella nave nella stiva o nel vostro personaggio magari per prendere questa carta ho un blaster che vale 2000 e non so che farmene l'ho baratto e quindi da 3000 ci scado 2000 che è il valore del blaster ci aggiungo 1000 e mi prendo questa carta pagando la 1000 invece che 3000 questa è tutta quanta la regola del mercato regola del mercato che vuole anche che appena arrivate nella zona per fare acquisti potete prendere la prima carta se voi guardate le carte che ci sono disponibili non ve ne garba nemmeno una magari dite a me questa nave lo slave 1 non mi piace ne voglio vedere un'altra quindi scartate lo slave 1 lo girate lo mettete in fondo al mazzo e girate la carta successiva lo potete fare soltanto una volta per vostro turno e magari non soltanto per andare a comprare qualcosa qui è capitato nel millennium falcon che vi piace di più quanto per andare a sabotare il vostro amico che sapete che magari voleva il vostro amico il vostro nemico che magari sapevate bene che voleva andare a prendere quella nave lì e voi gliela scartate e la mettete in fondo al mazzo quindi dovrà patire prima di rivederla vi faccio vedere un turno di gioco il gioco si divide in tre fasi che sono fase di passo di pianificazione passo delle azioni e passo dell'incontro nella fase di pianificazione avete tre opzioni potete muovere il vostro personaggio di tante caselle quanto è il movimento della vostra nave nave di partenza che vi ho fatto vedere di Boba Fett valore 5 se no potete restare fermi e ottenere 2000 crediti perché magari avete fatto una missione un obiettivo o cose del genere oppure potete risanare tutti i danni che avete subito quindi se il vostro personaggio Boba Fett ha 4 punti ferita e facciamo conto sulla sua scheda ne avesse subiti 2 che sono questi simbolini qui io spreco il turno la pianificazione non mi muovo però risano tutti quanti i punti ferita muovendosi vi dovete sempre muovere del valore della vostra nave la vostra nave si muove di 5 però non è detto ragazzi che per forza vi dobbiate muovere di 5 potete anche muovervi di meno quello decidete voi e dovete sempre muovervi seguendo le boe di navigazione collegate da una strada quindi io da qui devo per forza fare più movimento andare qui poi se volessi proseguire avrei due strade perché potrei passare o da Horde Mantle ok oppure potrei passare da di qua che ne so io voglio andare verso Mon Calamari quindi muovendomi di 5 potrei fare 1 2 3 4 e 5 e arriviamo a Mon Calamari se no 1 2 3 4 e 5 ci arriva uguale quindi la strada la decido io ci si può fermare tranquillamente anche sulla miniatura di un avversario perché in questo gioco regola vuole che non ci si possa attaccare anche se siamo con tra bandiere e tutto non ci possiamo attaccare però ci sono alcune carte evento che ti dicano vai a attaccare il giocatore avversario allora in quel caso si lo puoi sabotare con l'unica differenza che non mi posso muovere attraverso vedete qua giù ci sono le pattuglie che vi ho fatto vedere all'inizio mettiamo caso c'è una pattuglia ribelle che si trova qua giù posso passare attraverso flotte soltanto se ho una reputazione positiva altrimenti il mio il mio movimento verrà ultimato verrà finito ciò non vuol dire che ci debba andare a combattere sia chiaro però comunque il mio movimento verrà ultimato quindi se dicessi ok 1 2 reputazione con i ribelli positiva ok 3 4 5 se invece la reputazione è neutrale o negativa non ci potrò passare attraverso quindi faccio 1 2 e il mio movimento finisce non mi attaccano non c'è un combattimento né nulla però il mio movimento finisce qui l'unica altra regola è nella rotta di Kessel che è una rotta particolarmente infestata mettiamola così che c'è il Milestrom che è questo qui quindi voi assolutamente non vi potrete muovere oltre il pallino rosso l'unica limitazione però al solito ragazzi potete sempre aggirarle e cambiare strada per quanto vi richiederà più movimenti quindi una miniatura che qui vuole andare a Kessel e passa su questo puntino rosso qui automaticamente finisce il turno quindi il tuo movimento arrivi qui ed è finito per ora comunque nient'altro i movimenti sono questi qua passo delle azioni quindi ah ciascun giocatore deve fare i suoi tre passi tutti insieme non è alternato quindi che ne so Boba Fett dovrà fare pianificazione azioni e incontro quando ha finito magari toccherà al giocatore alla sua sinistra che è Gnerzo quindi Boba Fett mettiamo caso che è arrivato su Kessel ora può fare altre tre azioni a sua volta che sono consegna cariche e taglie quindi se io ho un carico da trasportare carte cariche cose del genere ho una taglia dietro io arrivo su Kessel e faccio l'azione di consegnare il carico e la taglia mi sono dimenticato di dire una cosa all'inizio nel passo di pianificazione potete fare una sola delle tre azioni che vi ho detto non tutte e tre cioè non è che posso recuperare punti feriti a muovermi ne potete fare solo una nel passo delle azioni invece le potete fare tutte quante ma ciascuna una volta soltanto quindi potrei fare che ne so carichi e taglie quindi vado a vedere se ce l'ho fatta se ho preso qualcuno se l'ho combattuto il combattimento ve lo faccio vedere come ultima cosa vado a consegnare e prendo i crediti perché magari la missione mi diceva vai a Kessel e prendo i crediti che mi spettano e ho finito la missione prenderò punti reputazione e cose varie azione di mercato quindi quella che vi ho detto prima niente niente di più niente di meno però c'è una regola particolare che vi faccio vedere oppure potete scambiare carte con un altro giocatore quindi se c'è un altro giocatore su Kessel magari c'è Ginerzo potete scambiare tutto e questa è la più grande figata che hanno introdotto in questo gioco non c'è la regola 1 a 1 potete scambiare tutto e potrei anche dirgli ascolta io ho un un coso una taglia ho catturato un fuggiasco dell'impero lo devo consegnare all'impero e mi daranno 5000 però te magari c'è quella nave che vale 6000 oppure c'è quell'arma che vale 4000 ci vado a perdere però mi interessa che ne dici allora si potrà fare un baratto anche soltanto c'ho questa taglia che mi vale 5000 ma non ho voglia di consegnarla fino a Tatooine perché magari a Tatooine c'è vi faccio l'esempio magari a Tatooine c'è un blocco imperiale vedete è molto strategico quasi su un fondo e ce n'è un altro magari anche di qua degli Hat io ho reputazione negativa con tutte e due e quindi vi dico non potendo andare a Tatooine perché sicuramente mi bloccheranno e perderò il mio carico possiamo fare una cosa io ti lascio il carico te lo vai a consegnare però da quel carico ci guadagni 5000 dammene 3000 io sono a posto ok il giocatore ti dà i soldi e te li dà il carico potete barattare tutto quello che avete in mano anche la vostra nave potete barattare qualsiasi cosa e l'altro giocatore può anche farvi una promessa un'altra cosa bellina può anche dire ok io lo vado a consegnare se lo consegno ti do la metà se non ce la faccio cavoli tua e poi ti pago appena ci si ritrova si possono anche fare promesse e infrangerle durante il gioco ultima fase è una fase obbligatoria che va fatta per forza quindi ogni giocatore la dovrà fare che è la fase dell'incontro quindi mettiamo caso che Boba Fett sia sul pianeta Kessel potrà risolvere tre tipi di incontri gli incontri ragazzi vanno risolti per forza almeno un incontro lo dovete risolvere sempre e l'incontro si risolve in tre maniere che poi sarebbe quattro con una carta del mercato che vi faccio vedere dopo quindi ora decisore del giocatore il giocatore potrebbe dire ok devo risolvere un incontro posso risolvere o un incontro di queste posso risolvere tre tipi di incontro su un mappa trovandomi sul pianeta Kessel vado a pescare la prima di queste carte qua su in cima la giro e leggo soltanto la parte di Kessel ok quindi vado a vedere cosa succede di solito non succede cioè nel senso di solito succede qualcosa che dovete risolvere oppure vi viene chiesto di prendere una delle carte del mazzo banca dati perché sono tutte quante ve ne faccio vedere una sono tutte quante carte narrative che dovete leggere a voci alte tutti devono sapere devono sentire a parte quando c'è una scritta testa all'ingiù che voi rigirate ed è un segreto è un segreto che lo dovete prendere tenere coperto dalla vostra parte del tavolo e solo voi lo dovete sapere appunto perché è un segreto quindi posso decidere di risolvere una carta incontro del pianeta dove mi trovo oppure risolvere una carta di questi incontri qui che vi ricordo un livello grigio ve li faccio vedere qui davanti un livello grigio è il livello più basso vedete c'è un puntino uno verde è un livello medio uno giallo è un livello alto quindi sono sempre incontri abbastanza difficili posso dire va bene risolvo questo incontro qui lo giro vedo chi è ok vedo la carta che mi dice perché anche questa qui è una carta banca dati quindi vado a cercare la carta 11 la giro e verrà fuori una missione su di lui che tra l'altro è il grande ammiraglio throne quello delle forze rimanenti dell'impero mi è andato anche malissimo usere dire e poi se no c'è il terzo incontro che posso risolvere nel caso io mi trovi in una boa se invece trovermi su un pianeta io mi dovessi trovare su una boa andrò a girare una carta incontro delle boe non posso girare quelle dei pianeti perché ovviamente non mi trovo in un pianeta quindi andrò a pescare da questo mazzo ma nel caso ogni volta che andate a fare un acquisto ogni singola volta che fate un acquisto ve l'ho detto dovete comprare la carta quindi mettiamo caso che io abbia comprato le muovo un attimino per farvi vedere meglio l'esempio così sappiamo cosa uscirà ok io ho comprato questa carta ho pagato 20.000 quindi questa carta ora diventa mia e la giro dalla mia parte del tavolo quindi questa carta adesso è acquistata e nel market non c'è più la metto nella scheda del mio personaggio ma ora non è importante la prima carta la dovete rivelare un'altra volta perché deve essere sempre con 6 carte di girate il mercato deve essere sempre rinfoltito quindi la vado a girare se nella carta che girate c'è un simbolo di una pattuglia di una fazione e un numero accanto vuol dire che quella pattuglia si muoverà di tot caselle in direzione del vostro personaggio ok perché vi hanno avvistati vi hanno cercato e cose del genere allora pattuglia imperiale si muove di 4 facendo la strada più breve quindi non potete fargli prendere la strada più lunga ed è di 4 pattuglia imperiale è qui la pattuglia imperiale è qui e si muoverà di 4 verso il mio personaggio che vuol dire la muovo 1 2 e con 3 mi raggiunge ok quindi io e la pattuglia imperiale siamo nella stessa casella e non vuol dire che mi attaccherà anche perché se è positiva non succede niente se è neutrale non succede niente se è negativa la reputazione invece mi attaccherà potete scegliere anche voi da attaccarli anche se siete alleati potete attaccarli anche perché vedete vi danno sempre una ricompensa però una volta che questa pattuglia a livello 1 sarà distrutta ne metterete un gioco un'altra di livello 2 e così andando avanti sono sempre più forti nel loro punto di partenza comunque mettiamo caso che sono con la reputazione negativa essendo reputazione negativa nella fase degli incontri automaticamente dovrò nella mia fase incontro non posso più scegliere devo affrontare per forza la pattuglia per forza se la reputazione è negativa se invece è positiva o neutrale posso sempre avere la scelta come vi ho detto l'incontro qua su in cima che è un incontro di pianeta la carta l'incontro boa e così in vario quando si va a fare un incontro bisogna sempre tirare il valore di attacco del vostro personaggio e il valore di attacco dello sfidante mettiamo sempre caso che sto combattendo questa pattuglia ah sia chiaro se combattete una pattuglia dovete usare i valori della vostra nave se combattete un personaggio appiedato come potrebbe essere l'ammiraglio tron dovrò usare invece il valore di terra è un combattimento che avverrà a terra comunque mettiamo caso che questo è un combattimento che avviene nello spazio vedete la pattuglia ha un valore di attacco di 3 e quindi io vado a tirare i 3 dadi e vedo cosa uscirà fuori i valori sui dadi sono sempre un nero questo qui che è un colpo normale un colpo critico e un occhio che non è un colpo è un mancato però potrebbe attivare delle varie abilità sul vostro sulla vostra scheda del personaggio il colpo normale equivale a una ferita questa è l'attività di questa è di attivare un'abilità speciale e questo invece vale come colpo critico quindi fa 2 ferite quindi mettiamo caso che la nave nemica abbia tirato 3 dadi abbia fatto questo un occhio che non fa niente in particolare perché non hanno abilità speciali i nemici almeno che non si è riportato sulla carta e un altro colpo la mia nave subirà 2 danni quindi andate a prendere 2 segnalini che sono questi qua ve li metto su castle e li mettete sulla vostra nave ora tocca la nave di Boba Fett attaccare che ha 3 dadi d'attacco e magari facciamo conto che la nave di Boba Fett faccia un danno normale un mancato uno questo qui e un critico quindi ho fatto 3 danni i nemici le pattuglie non hanno mai punti ferita punti ferita vi basta un danno per distruggerle la vostra nave invece è punti ferita però c'è sempre un però quando in questo gioco non c'è un modo per non ci sono da tirare dadi difesa ci sono soltanto le ferite cioè se il nemico ti fa 3 ferite anche se te l'hai ucciso l'hai prese cioè anche se hai vinto la battaglia le ferite comunque le prese ferite che potete rimuovere come vi ho fatto vedere nel turno all'inizio del movimento posso restare fermo spreco il mio turno di movimento però recupero tutte le ferite sia il personaggio che la nave quindi mi rimetto un attimino un sesto prima di continuare la mia avventura e quando fate invece anche soltanto un punto ferita al nemico la pattuglia è rimossa quindi comunque il combattimento con la pattuglia l'andrete sempre o quasi a vincere questo cosa vuol dire si va a vedere il valore delle ferite se il livello delle ferite fatte il numero di ferite fatte è pari o superiore al nemico avete vinto la battaglia se invece il numero di ferite che avete fatto è inferiore a quello che vi ha fatto al nemico quindi la pattuglia ve ne ha fatte 4 e voi ne avete fatte 3 non solo avete perso la battaglia con quella pattuglia ma avete subito anche tutte quelle ferite lì ricordo che quando i punti ferita del personaggio arrivano a 0 quindi nel caso di Boba Fett che ne ha 4 o della sua nave attuale che ne ha 4 quando o Boba Fett o personaggio o nave arrivano a 0 punti ferita il personaggio lo dovete estendere in terra non si muore mai questo gioco però perderà il turno perderà tutte le sue azioni non perderà la nave quella tranquilla vi rimane però perderà tutte le carte carico e taglia non avrete più niente assolutamente e dovete aspettare il turno successivo consumare tutta la vostra azione di movimento per recuperare tutti i punti ferita e ricordatevi che il carico e le taglie andranno persi completamente per i combattimenti appiedati è lo stesso ragazzi si va a vedere il valore di attacco e il valore di difesa ve l'ho detto se fate uguale o di più avete vinto il combattimento se fate meno invece dei danni che tira il vostro nemico l'avete perso e questa qui è la regola principale del combattimento rimane ragazzi il repilogativo delle carte della banca dati poi ci sarebbero tante cose da farvi vedere di particolare però le banche dati dovete sempre vedere il numero che c'è in cima il numero che vi verrà detto da una carta voi andrete a girare leggerete cosa c'è scritto dietro e di solito c'è una storia in vari step comunque vince il cacciatore di taglie che per primo di tutti arriva a reputazione 10 ah vi ricordo attaccare una pattuglia ok anche se ce l'avete se siete negativi non potete andare più giù dalla reputazione però le potete attaccare anche volutamente quindi magari voi con questa pattuglia siete neutrali non vi considerano ma voi la volete attaccare perché è facile da uccidere vi servono i crediti scalate eh ogni volta che attaccate una fazione automaticamente perdete un punto quindi da favorevoli andate a neutrali e da neutrali andrete a livello negativo questi ragazzi sono bene o male tutte le regole del gioco è un gioco molto semplice che si punta al movimento a vedere i danni che si fanno e soprattutto quello che conta è fare più punti possibile per vincere la partita partita che potete vincere o combattendo semplicemente o consegnando carichi oppure consegnando taglie o perché no anche magari come vi ho detto quelle carte particolari di modifiche e cose varie che vi potrebbero dare punti a loro volta quindi è un gioco molto narrativo ma un gioco anche molto tattico e la cosa veramente bellina è che si possono fare accordi con gli altri giocatori quindi voi potete andare da un giocatore e fargli tutte le proposte che vi vengono a mente il manuale non vi mette potete anche dirgli oh dammi la tua nave quanto costa 20.000 ok faccio un viaggio porto un carico torno e te la pago 30.000 invece che 20.000 l'altro giocatore potrebbe dirvi sì o no però se ti dice di sì e poi te bari e non gli riporti indietro nulla lui non vi può attaccare perché in questo gioco non ci si può attaccare ci sono ogni tanto delle carte che vi dicano sì puoi fare un attacco contro un altro giocatore quindi dipende tutto da voi ed è molto 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 bello ragazzi in conclusione è una figata assurda si vede che è un gioco anche se uno prendesse la scatola occhi chiusi cos'è o l'esterno e gli tappano davanti con la mano in basso da chi è stato fatto il gioco si capirebbe subito che è un titolo della Fantasy Flight perché tutti i giochi della Fantasy Flight come ad esempio anche le case della follia infatti non ve lo nascondo fra tanti sviluppatori di giochi che ci sono sono fra i miei preferiti perché ci buttano tanta narrativa cioè è importante la narrativa anche in un gioco da tavolo perché se no alla fin fine è smorto sai già cosa devi fare muovi le truppe muovi le miniature combatti e finisce lì ma volete mettere veramente con un bello sfondo narrativo e poi perlomeno un'alimentazione ricca come Star Wars o anche appunto qualcosa di Lovecraft dove c'è molto bisogno di narrare è cosa veramente importante secondo me che non potrebbe mancare da titoli del genere comunque se ne devo dare una valutazione finale a un gioco del genere le do assolutamente un 8 e mezzo su 10 li vale tutti ed è un gioco secondo me cioè non mi sento di dire non per tutti o per tutti perché secondo me proprio è nel mezzo no? è un gioco che può piacere a chiunque ecco mettiamola così questo è un gioco che può piacere veramente a tanti ed è un gioco che anche chi adora lo sci-fi oppure il classico nemico che avete presente c'è sempre la lotta Star Trek Star Wars e uno dice a me Star Wars non piace no? io sono parato come a tanti ragazzi che conoscono non gli piace ci sta da morire però non ci sono né Jedi né Sith anche l'impero non c'è perché sono le pattuglie anche la ribellione non c'è quindi alla fin fine siete cacciatori di taglie con trabandieri mercanti e cose del genere quindi secondo me è un gioco spaziale che può piacere assolutamente a tutti ed è un gioco veloce l'avete visto forse mi sono scappato due regole ma veramente due perché poi il gioco è questo qui è un gioco facile e veloce come quelli che fa la Fantasy Flight che hanno regolamenti da leggere una volta due volte al massimo e sei pronto per giocare quindi poi avete tutti quanti i ripelogativi delle regole da una parte e dietro i modi per ottenere punti fama quindi un gioco veramente fatto bene ecco io forse l'unica cosa se gli ho dato mezzo punto o meno è che invece di metterci questi di cartoncino che vanno bene vanno bene ragazzi sono bellissimi e anzi vanno bene così però ce l'avrei messi in 3D ma non per un fatto che magari erano più bellini e rendevano meglio perché forse la pedina 3D su questo gioco non ci sta nemmeno nulla detto sinceramente non è un tavolo da battaglia però queste di solito si rompono perché a son di levarle rimettele infatti non ce le levate più levarle rimettele e tutto poi ci sta che un po' non si scantucci non si rovini un pochino bello Boba Fett si rovini un po' il cartoncino l'unica cosa è con un pochino d'accortezza però niente è un gioco che è assolutamente 8,5 su 10 vale da morire link in descrizione ovviamente dove leggere se vi interessa recensione ed altro presentazione del gioco però i giochi ricordatevi della Asmode li trovate praticamente in tutti i negozi ludoteche e cose varie quindi girate un pochino per il vostro città o paese li troverete sicuramente io ringrazio ancora una volta Asmode Italia ragazzi grazie veramente di cuore per la bellissima sorpresa e ho apprezzato veramente da morire mi garba un casino e spero questo come tanti altri giochi quando ragazzi ci avremo un po' più spazio vedete siamo nello stretto di riuscirci a fare anche qualche gameplay con mia moglie magari il mio amico Pippo che collabora con me sul canale e altri amici quindi promossa appena i voti e fatemi sapere cosa ne pensate in descrizione tutti quanti i link compresi i nostri social seguitici per restare aggiornati sulla novità del canale ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti